nella mia angoscia ho invocato il signore ed egli mi ha risposto salmi 120 verso 1 l'aiuto che viene da dio ognuno di noi nel corso della propria esistenza può trovarsi ad affrontare situazioni complicate prove difficili e ostacoli è in queste circostanze che dobbiamo invocare fiduciosi il nome di dio chiedendo il suo prezioso intervento anche il salmista vittima della bugia della menzogna della frode chiese aiuto al signore qualunque sia il tuo problema dio è pronto intervenire in tuo favore ancora oggi egli promette salvezza liberazione e guarigione a quanti spellano in lui invocami nel giorno della sventura io ti salverò e tu mi glorificherai salmi 50 verso 15 il signore a cura di te ascolta e risponde al tuo grito d'aiuto presso il trono della grazia e dell'amor di dio troverai vera consolazione e desordimento alla tua preghiera tutto cambia la dolce presenza di gesù cristo l'angoscia viene mutata in gioia e la paura lascia il posto alla pace del signore